Carissimi amici, bentornati, questa è la 25esima puntata del ciclo di catechesi dedicato ai nuovissimi. Siamo nella seconda parte, quella dedicata ai nuovissimi mondi e oggi apriamo il secondo capitolo della seconda parte che è dedicato alla risurrezione della carne, avremo tre capitoli o meglio tre parti perché tre sono i nuovissimi mondi, la parousia che abbiamo finito di trattare la volta scorsa e appunto la risurrezione della carne che cominciamo oggi con un po' d'anticipo rispetto al giorno di Pasqua, però sicuramente ci accompagnerà per i primi passi del tempo post-pasquale perché da adesso a Pasqua ci mancano credo tre settimane, quindi chissà se ce la facciamo con tre puntate, forse sì, quindi ci prepariamo alla Pasqua e poi ci sarà il giudizio universale con l'ultimo grande tema dei nuovissimi mondi e anche di questo ciclo di catechesi che quindi così dovrebbe volgere verso il termine. Oggi apriamo il capitolo nuovo della risurrezione della carne, come sempre questo è un ciclo di catechesi come sapete un po' dottrinale, quindi dogmatico, formativo, quindi ogni tanto io cerco di dare anche dei tagli un po' esistenziali, quindi non fare semplicemente una lezione che dopo diventa un po' troppo noiosa, però è un ciclo di catechesi dottrinale, quindi andiamo a formarci e rinformarci anche sui punti fondamentali della nostra fede divina e cattolica, quindi cercando di capire qual è la sana dottrina cattolica e quali sono invece gli errori da evitare o le dottrine incerte che possono anche essere in qualche modo considerate ma senza troppa adesione perché non si tratta ancora di cose ben definite oppure formalizzate da atti ufficiali del Magistero. Quindi procediamo come sempre inquadrando il tema anzitutto nella Sagra Scrittura, poi nei testi del Magistero, poi dando un'occhiata al Catechismo della Chiesa Cattolica, poi dando un'occhiata come sempre a San Tommaso che su questo tema avrà delle cose molto molto belle e molto interessanti da farci notare e poi concludiamo sempre con una piccola sintesi che cerca di fare un po' di tirare le somme di quello che andremo con l'aiuto del Signore sviscerando attraverso l'analisi. Allora, vediamo la Sagra Scrittura. Nei Vangeli è certo che si parla della risurrezione e se ne parla però in due termini molto distinti perché Gesù ha operato durante il corso della Sagra Scrittura pubblica tre risurrezioni e evidentemente è veramente risorto come diremo a squarciagola a partire da tra 20 giorni circa. Sì, siamo arrivati al mercoledì della quarta settimana, domenica comincia il tempo di passione quindi ci mancano due settimane. Tra 20 giorni faremo questa bella esplosione di gioia che tra l'altro sarà tanto più esplosiva quanto più in quaresima ci siamo temprati quindi abbiamo fatto un bel combattimento spirituale, abbiamo offerto al Signore tante mortificazioni, tanti sacrifici, tante penitenze. Chi fa una grande quaresima il giorno di Pasqua veramente capisce che cos'è qualcosa della risurrezione, quindi quando archivia tutti quanti gli strumenti di combattimento. Ecco, quindi ecco la piccola puntatina catechetica. Quindi, però, le risurrezioni che Gesù però, rispetto alla sua, hanno un discriminante fondamentale. Anzitutto, quali sono queste tre risurrezioni? Il figlio della vedova di Nain, episodio che si trova nel Vangelo di Luca, al capitolo 7, i versetti 11 e 17, solo in Luca. Poi invece abbiamo un episodio che si trova in tutti e tre i Vangeli sinottici che è la risurrezione della figlia del sinagogo Gairo, il famoso episodio dove Gesù in aramaico gli dice in ebraico, scusate, talita kumi, quindi fanciulla sorgi, kumi è il femminile imperativo del verbo kum, che è proprio il verbo della risurrezione, e si trova in Matteo 9, 23, 26, in Marco 5, 35, 43, e in Luca 8, 49, 56, la più estesa delle tre versioni. E poi abbiamo un altro episodio che, peraltro, ecco, è per una dioincidenza, contempleremo nel Vangelo di domenica prossima, nel Novo Sordo siamo nel ciclo A, quindi la quinta domenica di Quaresima è dedicata proprio alla risurrezione di Lazzaro, capitolo undicesimo del Vangelo di San Giovanni, l'ultimo dei sette segni, il più strepitoso, perché morto insomma già da diversi giorni viene tirato fuori, il miglior amico di Gesù, tra l'altro, su una vita terrena, però tutte queste persone sono morte. Lazzaro, per esempio, chi non lo sapesse, è diventato poi vescovo ed è morto martire. Quindi perché queste risurrezioni sono diverse da quella di Gesù? Perché sono risurrezioni reali, perché comunque sia il corpo esanime, il cadavere è stato risuscitato da Gesù, quindi l'anima è tornata ad abitare il cadavere di un morto, di un morto veramente. Ma sono poi morti in un secondo momento, quindi dopo qualche tempo il loro corpo è di nuovo diventato cadavere e il cadavere di tutti questi morti è in attesa della risurrezione. Ma invece il corpo risuscitato di Gesù ha cessato di essere cadavere e non ci è diventato più, perché il corpo di Gesù è glorificato. Quindi attenzione, la differenza che c'era tra queste risurrezioni e la risurrezione di Gesù è che la risurrezione di Gesù è quella che ha vinto la morte. Quindi è un corpo glorificato. Cristo risuscitato dai morti, si legge nella lettera di San Paolo, non muore più. La morte non ha più potere su di lui. È una vittoria definitiva sulla morte. Il cadavere di Gesù non esiste, il corpo, io adesso questa è la prima volta che faccio questo ciclo di catechesi dopo aver conosciuto gli scritti di Tenera Amata, quindi sicuramente il linguaggio cambierà un po', quindi il corpo integrale di Gesù è assolutamente glorificato e quindi si trova in cielo, non esiste un posto dove si trova sulla terra e dopo quelle quarant'ore, questi giorni in parrocchia stiamo facendo le quarant'ore. Sapete che le quarant'ore, altro taglietto catechetico, derivano dal fatto che di fatto Gesù nel sepolcro c'è stato per circa quarant'ore. Vale la regola dei tre giorni perché è morto alle 15 del venerdì e è risorto all'alba della domenica, però capite come si fa presto a fare i conti. No, 24 ore dalle 15 del venerdì sono le 15 del sabato, più altre 12 ore sono le 3 di notte della domenica e siamo a 36, se si giungono 4 ore facciamo le 7 della domenica mattina, quindi più o meno poco dopo l'alba del giorno di Pasqua, quindi più o meno questo è il tempo da cui deriva quindi la pia devozione delle quarant'ore, questi tre giorni che si stagliano appunto se quarant'ore durante tre giorni, poi è difficile raggiungere proprio il numero di 40-40 perché in tre giorni per fare quarant'ore dovresti fare 13 ore al giorno, quindi tipo dalle 6 della mattina alle 7 di sera o dalle 7 della mattina alle 8 di sera, proprio ci stanno sempre le messe di mezzo, quindi vabbè comunque non dilunghiamoci troppo su questo. L'importante è capire questa differenza sostanziale, quindi c'è la risurrezione di questi tre personaggi, il figlio della vedova di Nain, la figlia di Dijairo e Lazzaro, ma la risurrezione di Gesù di cui ovviamente parlano tutti i Vangeli, avremo modo di deliziarci di questo nell'ottava di Pasqua e anche nel tempo, soprattutto nella settimana dell'ottava di Pasqua, con tutti quanti i racconti differenziati delle apparizioni, bellissima l'ottava di Pasqua, quindi comunque si trova in capitolo 28, sono gli ultimi capitoli dei Vangeli, quindi di tutti e quattro i Vangeli ovviamente, capitolo 28 di Matteo, 16 di Marco, 24 di Luca, 20 e 21 di Giovanni e poi nella predicazione, la prima volta che San Pietro predica negli Atti degli Apostoli, ma anche nel capitolo primo degli Atti degli Apostoli, prima che Gesù ascende al cielo, che rievoca la risurrezione e poi in svariatissime parti dell'Antico Testamento dove San Paolo parla della risurrezione di Cristo che è risolto, sarebbe veramente molto molto lungo e noioso andare a elencarli tutti. Ora, questa cosa però, quindi, le risurrezioni operate da Gesù e la risurrezione di Gesù sono una cosa distinta dalla risurrezione dei morti, di cui si parla soprattutto nel Nuovo Testamento, ma anche nell'Antico Testamento, anche se in due luoghi abbastanza circoscritti. Voi sapete che questa credenza era condivisa da una parte degli israeliti. I farisei credevano nella risurrezione, questo è famoso, i sadducei non credevano nella risurrezione, tant'è vero che c'è quel famoso passo tratto dal Vangelo di Luca, dove i sadducei fanno la domanda tendenziosa a Gesù sulla risurrezione. Dice, guarda che quella donna c'ha avuto sette mariti e muove la risurrezione della carne di chi è la moglie. Ecco, e tra l'altro questo offre a Gesù la possibilità di spiegare che nella vita dei morti risuscitati ci sono tutti i godimenti possibili, meno che quello sessuale. Questo è un dato di fatto evangelico, quindi piaccia o non piaccia, piaccia o non piaccia le catechesi che ho fatto l'anno scorso sul peccato originale, che poi insomma riprendono temi della grande patristica e quindi quella certa lettura del peccato originale. Sicuramente, questo con buona pace di tutti, in paradiso il sesso non c'è, non è roba da paradiso. Mi dispiace, ma su questo Gesù è molto molto chiaro, ci sono tanti svariati piaceri, tra cui molti simili a quelli che viviamo su questa terra, anche se certamente a livelli molto molto superiori, ma questo non c'è. Questo certamente deve fare pensare, non poco, ecco, anche perché sesso contiene le tre S, no? Le tre S che sono le tre S del 666, insomma, quindi difficile che queste robe ci siano in paradiso. Comunque, chiusa parentesi, non stiamo parlando di questo. Andiamo a vedere i brani invece sulle risoluzioni dei morti, questi bisogna vederli, soprattutto i prodromi veterotestamentari, che sono quelli che hanno alimentato la fede di una parte, chiaramente degli israeliti, e che si trovano nel primo libro dei Maccabèi, in due sezioni. Allora, anzitutto nel capitolo 7, che è il celebre episodio, per chi non lo ricordasse, di quei sette fratelli che presi insieme alla loro madre furono tutti quanti martirizzati. Quel pazzo furioso tiranno dell'epoca ha scannato uno per uno i sette fratelli sotto gli occhi della madre per torturarla di più e poi ha ammazzato pure a lei. Ora, in due versetti di questo capitolo, proprio perché questi stanno affrontando la morte, si accenna alla risurrezione dei morti. E precisamente nel versetto 9 del capitolo 7, quando uno dei fratelli dice al tiranno, giunto all'ultimo respiro, disse, tu oscellerato ci elimini dalla vita presente, ma il re dell'universo, dopo che saremo morti per le sue leggi, ci risusciterà a vita nuova ed eterna. In greco c'è proprio il termine della risurrezione, no? Anastesei, allora, essaionion anabiosin, per la vita eterna, zoes, essaionion anabiosin zoes, quindi per la vita eterna, nuova ed eterna, per essere precisi, ci risusciterà emas anastesei. Non è l'unico versetto, più avanti, nel versetto 14, anche un altro martire, il quarto, dice, ridotto in fin di vita, gli diceva, è preferibile morire per mano degli uomini, quando Dio si ha la speranza di essere da Lui di nuovo risuscitati, ma per te non ci sarà davvero risurrezione per la vita. Vedete come qui si capisce che ci sarà una risurrezione per la vita, ma ci sarà anche una risurrezione non per la vita, amici. Udite, udite, anche i dannati risusciteranno questo. Ogni tanto dovremmo fare mente locale e ricordarlo. La tortura eterna anche con il corpo dell'uomo integrale. Un mostro, perché sono mostri dannati, e questo vale specialmente per quelli che hanno idolatrato il proprio corpo, penso soprattutto a certi personaggi femminucce, ma anche adesso maschietti che veramente fanno concorrenze alle femminucce, continuano pure a sfidare il Padre Eterno e a provocarlo in continuazione e a rischiare di morire senza essersi pentiti. E poi, ahimè, quando sarà troppo tardi, vedranno quello che succede, purtroppo quando sarà troppo tardi. Ora, oltre a questi due brani ce n'è anche un altro, sempre nel libro di Maccabee, precisamente al capitolo dodicesimo, versetto, perdonatemi, 44, dove si fa un altro accenno ancora, alla risurrezione della carne. Lo leggiamo brevemente insieme. Oh, questo è il sacrificio invece per i morti. L'abbiamo già visto quando abbiamo parlato del purgatorio, perché è uno dei rarissimi brani dell'Antico Testamento che fa pensare al purgatorio, quando offrono il sacrificio per i morti. a seguito, insomma, di Giuda e che, sapete, una delle scorribbande del grande Giuda, si accorge che alcuni dei suoi soldati sono morti, ma sono morti a causa dei peccati commessi. Quindi fa un sacrificio per il peccato e compiendo, leggo dal versetto 43, un'azione molto buona nobile suggerita dal pensiero della risurrezione, iuper anastasios diagolizomenos, dice il testo greco, perché se non avesse avuto ferma fiducia che i caduti sarebbero risuscitati, sarebbe stato superfluo e vanno pregare per i morti. Questo è il terzo brano. Poi ce n'è un altro, cambiamo però libro biblico e lo troviamo nel profeta Ezechiele, al capitolo 37. Questa è una delle letture, se non ricordo male, che si legge. Non mi ricordo se è la veglia di Pasqua o la veglia di Pentecoste. A una delle due comunque sicuro al 100%, forse la veglia di Pentecoste. Comunque, il testo dice, la mano del Signore fu sopra di me, era la famosa pianura delle ossa morte. No, forse la veglia di Pasqua, forse. Adesso la testolina, amici cari. Vabbè, la mano del Signore fu sopra di me e il Signore mi portò fuori in spirito e mi repose nella pianura che era piena di ossa. Mi fece passare accanto a esse da ogni parte. Vedi che erano in grandissima quantità, nella distresa della valle, tutti in arredita. Mi disse, figlio dell'uomo, potranno queste ossa rivivere? Io risposi, Signore Dio, tu lo sai. Egli mi replicò, profetizza su queste ossa e annuncia l'ora. Ossa in arredite, udite la parola del Signore. Così dice il Signore Dio a queste ossa, ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e rivivrete. Metterò su di voi i nervi e farò crescere su di voi la carne, su di voi stenderò la pelle, infonderò in voi lo spirito e rivivrete. Saprete che io sono il Signore. Io profetizzai come mi era stato ordinato e mentre profetizzavo sentì un rumore, vedi un movimento fra le ossa che si accostavano tra di loro, ciascuno al suo corrispondente. Guardate, ecco, apparire sopra di essi i nervi. La carne cresceva e la pelle le dicopriva, ma non c'era spirito in loro. Egli aggiunse, profetizza allo spirito, profetizza figlio dell'uomo e annuncia allo spirito, così dice il Signore Dio, spirito, vieni dai quattro venti e soffi su questi morti perché rivivano. Io profetizzai come mi aveva comandato e lo spirito entrò in essi. E ritornarono in vita e si alzarono in piedi. erano un esercito grande e sterminato, eccetera. Quindi riconoscerete che io sono il Signore, termino il brano, quando aprirò le vostre tombe, vi farò uscire dai vostri sepolcri o popolo mio, farò entrare in voi il mio spirito, ridirete, vi farò rimostrare nella vostra terra, saprete che io sono il Signore, l'ho detto e lo farò, oracolo del Signore Dio. Ora, c'è un episodio particolare che dobbiamo andare a vedere che riguarda la resurrezione dei morti, anzitutto i passi in cui Gesù ne parla nei Vangeli, no? che sono Marco 20, 27, Luca 20, 27, 40, Marco 12, 24 e seguenti, Giovanni 5, 28, 29, 6, 39, 44, 54, ma c'è un episodio molto interessante che dobbiamo assolutamente andare a vedere. Cioè, nel Vangelo secondo Matteo c'è un particolare, un po' singolare, che ci consentirà poi di fare qualche considerazione, e cioè, al momento della morte di Gesù, e Gesù ha messo un alto grido, Spirò, siamo a Matteo 27, 50, che cosa succede? Una cosa che raccontano anche gli altri evangelisti, che il vero del Tempio si squarcia in due, no? Ed ecco il vero del Tempio si squarciò in due da cima a fondo, la terra si scossa e le rocce si spezzarono. Ora però, attenzione, i sepolcri si aprirono e molti corpi di santi morti risuscitarono. E uscendo dai sepolcri, dopo la sua risurrezione, entrarono nella città santa e apparvero a molti. Fine. Amici cari, questo brano, che, attenzione, questo non è mai stato oggetto di interpretazione autentica, almeno che io ne sappia, da parte della Chiesa. Però, per esempio, su questo brano si fonda una pia credenza, quindi pia credenza vuol dire che questa non è la verità di fede, ma ci si può credere piamente, fino a dichiarazioni contrarie, che alcuni santi uomini, con la risurrezione, cioè con la morte redentrice di Gesù e quindi poi con la sua risurrezione, perché questi sono risorti al momento della morte e sono entrati nella città santa dopo la risurrezione, cioè si sono fatti vedere dopo la risurrezione di Gesù. Allora, domanda, questi morti sono risorti come Lazzaro, il figlio della vedova di Nain e la figlia di Gairo sono risorti risorti, cioè sono una primizia dei risorti dai morti, punto interrogativo, e sia rivelazioni private che anche qualche pio autore si è un po' sbizzarrito a fare qualche ipotesi. per esempio, la pia credenza, che poi adesso è stata confermata da un'apparizione mariana, che è quella di Tapiranga, l'assunzione al cielo di San Giuseppe, che San Giuseppe è stato assunto al cielo in corpo ed anima, non è un dogma di fede chiaramente, si fonda su questo Vangelo, a mio avviso è una pia credenza verosimile, cioè è corrispondente allo stile di Nostro Signore. Una primizia ha già avuto, e questi sono chiaramente i grandi santi, per esempio i nonni di Maria, scusate, i nonni di Gesù, cioè i genitori di Maria, San Giovanni Battista, tanto per fare qualche nome eccellente. Mosè ed Elia? Elia si sa che fine ha fatto, perché Elia, come Enoch, è stato rapito in un luogo misterioso da parte dell'Altissimo, estante alla Sagra Scrittura, non si sa che fine ha fatto. Cioè, più che risorto, Elia ed Enoch, altro misteriosissimo personaggio che compare in tre versetti del Libro della Genesi e poi sparisce, sono stati portati da Dio e non si sa in quale luogo, e non si sa che fine hanno fatto. Stante raccolti biblici è così. Ci sono molti misteri, amici cari, nella Sagra Scrittura. Però qui è possibile, certo che è possibile. Allora non mi dice, eh no, però soltanto la Madonna è stata assunta in cielo, se c'è soltanto la Madonna in paradiso anche quel corpo, no? E lei è la primizia, dico, e dice che differenza ci sarebbe? Eh no, amici cari, la differenza ci sarebbe. Perché questi, ecco anche uno dei raccordi con Teneramata, qui facciamo un pochino di divagazioni per chi segue anche gli altri cicli di Catechesi, no? Qual è la differenza? Supponiamo che San Giuseppe sia stato assunto in cielo, no? Beh no, ma questo è un privilegio della Madonna, l'assunzione. È stato fatto un dogma nel 1950, giusto? Eh allora non può essere che riguarda anche altri, questa è una cosa esclusiva di Maria. Come la mettiamo? La mettiamo così che anche se Pio XII non ha risolto il problema della morte vera di Maria oppure no, il problema della morte vera di Maria non si può risolvere in nessun altro modo che in questo, cioè che il corpo della Madonna non è mai diventato cadavere. Cioè il distacco dell'anima dal corpo di Maria non è mai stato pieno, quindi il cadavere di Maria non è mai esistito. E questo qualifica l'assunzione di Maria come un unicum, perché lei non c'è stata in senso stretto una risurrezione, perché non è morta, ma c'è stata appunto, ecco perché devi fare un dogma, perché se San Giuseppe ha avuto l'assunzione, San Giuseppe è uno sicuramente di questi santi morti, certo per cento per cento, e che poi se l'è portata al cielo nostro Signore dopo l'ascensione. Ma San Giuseppe è stato cadavere, perché San Giuseppe è morto ed era morto almeno tre anni, forse quattro, forse cinque. La morte di San Giuseppe, la tradizione unanima la colloca prima dell'inizio della vita pubblica di Gesù, quindi sono passati almeno tre anni e qualche mese, almeno. Tre anni e qualche mese il cadavere di San Giuseppe è stato cadavere di San Giuseppe. San Giovanni Battista è la stessa cosa, è stato ucciso poco dopo l'inizio della vita pubblica di Gesù, i nonni addirittura di Gesù sono morti quando Maria bambina stava nel Tempio, qui Maria aveva 14, 15, più 33, 47, 48 anni quando Gesù è morto ed è risorto, quindi immaginiamo, no? Possibile, pia credenza però, attenzione. Ora andiamo a vedere alcuni testi invece del Nuovo Testamento che significativamente parlano ampiamente della risurrezione della carne. Anzitutto, non li vediamo tutti, vi ho già detto, però il testo, il primo testo che vediamo è la prima lettera di San Paolo a Tessalonicesi, capitolo 4, versetti 16, 17, dove c'è proprio il Signore stesso ha un ordine, alla voce dell'Arcangelo e al suono della tromba discenderà dal cielo e prima risorgeranno i morti in Cristo. Quindi noi, i vivi superstiti, saremo rapiti insieme con loro tra le nuvole per andare incontro al Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore. Confortatevi dunque a vicenda con queste parole. Adesso, a prescindere dall'interpretazione di questo versetto 17 su cui gli esegeti si sono appiccicati un po', no? Allora, certamente da quello che è il tenore di diversi testi neotestamentari, specialmente Paolini, si può comprendere che la Chiesa Primitiva non aspettava la pausia come un qualche cosa che sarebbe venuta chissà quando. No, a quanto pare. Anche perché il libro dell'Apocalisse ancora non era stato scritto. Quindi, anche se, pur essendo stato scritto, chi se lo va a immaginare nel momento della collocazione temporale del primo e del secondo combattimento escatologico, non c'era stato ancora l'indizio che ci sarebbe dato Gesù attraverso rivelazione privata con il libro di cielo di Luisa Piccarreta, quindi che scansiona temporalmente la storia per tappe di bimillenni, quindi bimillenari, no? Quindi, certamente, la Chiesa Primitiva immaginava una pausia a breve termine. Quindi, di chi parla qui noi superstiti vivi saremo rapiti insieme con loro tra le nuvole? Forse San Paolo immaginava che sarebbe stato uno di loro? Oppure è un discorso da allargare quindi noi, i cristiani che sono rimasti ancora vivi, quindi quelli che al momento della pausia a cui è direttamente collegata, come vedremo, la risurrezione della carne si trovano ancora vivi, non muoiono e vengono portati direttamente in cielo, quindi è uno di quei passi un pochino controversi. Poi vedremo, quando passeremo in rassegna i testi magisteriali, cosa è da credere a questo riguardo, no? Che è di fede. Però ha certamente un testo esplicito. L'altro grande testo, Paolino, esplicito, e qui vedremo che è bellissimo il commento di San Tommaso, è proprio il capitolo lungo, capitolo quindicesimo della prima lettera ai Corinzi, dove dopo aver annunciato nei primi capitoli, scusate, nei primi versetti la risurrezione di Cristo, a un certo punto nel versetto 12, San Paolo dice, ora se si annuncia che Cristo è risorto dai morti, come possono dire alcuni tra voi che non esiste risurrezione? Perché se non esiste risurrezione dai morti, neanche Cristo è risuscitato. Ma se Cristo non è risuscitato, allora è vana la nostra predicazione ed è vana anche la vostra fede. Se infatti i morti non risorgono, continua nel versetto 16, neanche Cristo è risorto, ma se Cristo non è risorto, è vana la vostra fede e voi siete ancora nei vostri peccati e anche quelli che sono morti in Cristo sono perduti. Se poi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto in questa vita, siamo da compiangere più di tutti gli uomini. Questi sono passaggi fondamentali. Qui possiamo fare un piccolo pit stop, pit stop catechetico. Perché San Paolo dice così? Se Cristo non è risorto, va nella vostra fede e voi siete ancora nei vostri peccati. Perché Cristo è morto per la nostra salvezza, scrive San Paolo, ma è risorto per la nostra giustificazione. Se Cristo fosse soltanto morto senza essere anche risorto, sarebbe un bel problema, grosso. Perché il salario del peccato, che è la morte, non sarebbe stato vinto. Certamente il prezzo del peccato sarebbe stato pagato, ma la conseguenza del peccato non sarebbe stata vinta. E quindi la giustificazione di cui parla San Paolo, quindi la grazia santificante, sgorga a noi per dire il mistero, evidentemente, principalmente della morte, perché Gesù doveva pagare il prezzo del nostro riscatto. Ma è risorto dai morti in quanto Dio, vincendo quindi la morte e quindi da vivo facendoci arrivare la grazia della giustificazione. la risurrezione di Gesù Cristo, spiega San Paolo, è il fondamento della risurrezione dei morti. Perché lui è risorto come primogenito, come primizia. Ecco perché è possibile che si sia portato dietro alcune primizie, quasi a mostrarlo. Vedete, io sono risorto, alla fine della storia tornerò, ci sarà la risurrezione della carne. Queste sono le primizie, quindi credeteci. Se un giorno la Chiesa approfondirà questa cosa, per esempio se dovesse fare il dogma dell'assunzione di San Giuseppe, non è escluso, voi sapete che i dogmi non sono mica ancora chiusi, cioè la Chiesa sta ancora sulla terra, non soltanto perché deve portare le genti a Cristo e perché il numero degli eletti ancora non è completo, ma sicuramente da qui alla parusia ci saranno altre verità di fede definite, certamente. Primo fra tutti, io su questo mi espongo tranquillamente perché non ne ho nessunissimo dubbio, lo desidero con tutto il cuore e certamente quel giorno sorgerà la corredenzione di Maria, il quinto dogma mariano, la gemma. Maria corredentrice, mediatrice, universale e avvocata dell'umanità. Altri, uno potrebbe essere l'assunzione di San Giuseppe. Io sono molto propenso a credere a questa cosa ed è molto verosimile che ci sia una cosa di questo genere. Ci saranno altri dottori della fede da essere fatti, altre verità di fede da definire. Chi lo sa che un giorno non avvenga qualche definizione sul peccato originale, per esempio? Chi lo sa? Chi lo sa che un giorno, come peraltro dice, annuncia, tante cose dette da Teneramata riguardanti per esempio la quinta dimensione, quindi anche un modo particolare, differente di intendere la risurrezione dei morti. La risurrezione dei morti rimane, perché i cadaveri sono un dato di fatto, quindi i cadaveri dei morti sono cadaveri, punto. E fino a quando non c'è la risurrezione della carne, quei cadaveri rimangono cadaveri. Però sappiamo da Teneramata che esiste anche la quinta dimensione, quindi l'anima si stacca dal cadavere, ma le fasi di vita vissute corporalmente fino a quel momento che fanno parte dell'eternità creata continua a possederle. E continua a possederla come anima glorificata si sta in paradiso, quindi con tutta la possibilità di controllo e di, come dire, resettaggio degli spazi e tempi di vita che ha vissuto. Questo non fa parte del Magisterio della Chiesa al momento. Sappiamo anche, perdonatemi se faccio riferimento, queste sono le cose che so e che approfondisco, è che Luisa Piccarreta ha avuto non tanto una visione quanto una rivelazione da parte di nostro Signore, che i suoi libri li ha visti distesi sui tavoli delle alte gerarchie ecclesiastiche. Voi immaginate che significa se la Chiesa dovesse dire... Ok, in primatur. E immaginate anche se la Chiesa, io questo qui lo auspico come un mio sogno particolare, perché è una delle cose più care che per me esistono, un giorno dovesse togliere tutte quante le riserve non definitive e non vincolanti, che chi ne scriva qualcuno e lo dica e lo sbandieri anche nel web, su Maria Valtorta, qualora queste cose venissero tolti e magari venisse fatto un'operazione contraria, quindi di riconoscimento di quegli iscritti, voi capite che si aprono tante... quindi c'è tanto lavoro ancora da fare per la Chiesa. Il problema è che adesso sta in un mare di guai, quindi sta navigando per acque molto, molto tormentate, per cui come capite adesso ci starà da arginare una deriva ultramodernista che ormai appare abbastanza chiara e distinta agli orizzonti, cioè non so se voi sapete, informatevi bene, cosa hanno approvato nel sinodo tedesco. Adesso queste cose si possono... tranquillamente, questi sono sono dati di fatto pubblici, capite? Quindi non è che dici, va Leonardo che dici, ti esponi a chissà che cosa, hanno scritto su tutti i giornali, quindi... capite? Cioè la benedizione di qualunque tipo di coppia, che ne so, divorziati, conviventi, gay, lesbiche, tutti benedetti, basta che amore... capite? Le donne che possono fare le omelie, le donne che possono celebrare le nozze, le donne che possono celebrare i funerali, cioè fare l'omelia, celebrare le nozze e i funerali, vi dico che nell'attuale disciplina della Chiesa sono operazioni che fanno i diaconi, l'ho fatti pure io da diaconi, io ho celebrato il mio primo matrimonio da diacono, pochi sanno, certamente se uno fa il matrimonio durante la messa c'è il prete che era celebra e così fu, matrimonio di un mio cugino carnale, ero diventato prete da diacono da 20 giorni, lui si è sposato 20 giorni dopo il mio diaconato, se era informato dice ma allora chiamiamo un prete, celebra la messa, tu gli servi la messa, gli assisti alla messa della diacono e ci serve del matrimonio, posso farlo, quindi queste cose qui, attenzione allo sdoganamento dell'ideologia gender, addirittura allo sdoganamento dell'ideologia gender, capite che significa una cosa del genere, capite? Impressionante, e poi ce n'era pure un'altra che adesso mi sfugge, però queste tre penso che siano già, insomma, che siano già abbastanza, no? Quindi, per adesso capite che la Chiesa non ha tempo, non ci sono le condizioni, né per fare il quinto dogma, né per fare il quinto dogma mariano, né per occuparsi dell'assunzione di San Giuseppe, né per sdoganare gli scritti di Luisa Piccarrete e di Maria Valtorta. Quando le acque si saranno calmate, si calmeranno, perché queste cose certamente non passeranno, quindi potranno, come dire, affacciarsi, ma ci saranno le barricate proprio, cioè, capite, ci saranno le barricate, proprio le bardicate, perché io non credo affatto che tutti quanti vescovi, preti e laici saranno disposti ad accettare queste cose, quindi adesso non... vengono da una conferenza episcopale, anche se questo è un fatto molto preoccupante, perché che una nazione abbia potuto approvare queste cose... come fa senza temere ritorsioni? Significa quantomeno che hanno le spalle coperte nel senso che credono che ritorsioni non ne verranno, soprattutto perché forse non sono praticate e condivise soltanto da quell'ambiente, ma che c'è una già ampia diffusione a livello trasversale, ma voi capite che queste robe qui sono robe che con la Chiesa di Cristo non hanno niente a che fare, cioè, io sono ancora ovviamente, come dire, allibito, allibito di come soltanto possono essere venute in mente certe cose, ma voi sapete che soltanto otto vescovi e otto vescovi soltanto hanno votato no, altri si sono astenuti, dico, ma ti astieni di di? Da cosa ti astieni? E mi pare che 38 erano favorevoli, erano comunque la maggioranza, credo che 8 hanno votato contro, credo che 12 si siano astenuti e 38 a favore, in ogni caso anche facendo conto tra contrari e astenuti, la maggioranza era favorevole. Io sarò un retrogrado, sarò un preconciliare, me ne dicono tutti i colori, ma io mi meraviglio come possa soltanto venire in mente a un vescovo cattolico una cosa del genere. Qualcuno un giorno me lo spiegherà, quindi abbiamo questa situazione adesso, ahimè, quindi ci sono, ripeto, cose molto gravi da affrontare per poter, voi capite, approfondire in maniera serena, lucida, questioni così delicate da un punto di vista magisteriale, che richiedono certamente un'elaborazione, una, come dire, una, una lenta maturazione, ci vogliono circostanze temporali e situazioni, diciamo anche così esterne, di ben altra tranquillità, che purtroppo adesso non ce li possiamo permettere. Ecco, quindi, però, ecco, ci saranno. Ecco, comunque, in ogni caso, la cosa grande che dice San Paolo, che se Cristo non è risorto, noi siamo ancora nei nostri peccati, non siamo giustificati, non solo, quelli che sono morti in Cristo sono perduti, ma non solo, non solo, se noi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto in questa vita, beh, prendiamo una rivolterra e spariamoci, siamo da compiangere più di tutti gli uomini, perché certamente noi, come dire, la vita di fede produce grandi gioie anche qui, però la vita di fede richiede anche grandi rinunce, amici cari, ripeto, chi sta facendo la quaresima non per scherzo, guardate che ci possono essere dei modi molto impegnativi di fare la quaresima, che te li ricordi, sono rinunce abbastanza significative, leggete qualche vita di santo, da vedere come facevano le quaresime, per esempio, una santa Veronica Giuliani, e io credo che per questa santissima donna che ha tutta la mia venerazione, ecco, quando arrivava il giorno di Pasqua, ci starà veramente da suonare le campane a festa, cioè non è che allentasse molto, però, perché anche fuori contesto esagerava abbastanza, però sicuramente, insomma, quindi tutte quelle penitenze, tutte quante quelle rinunce, se non c'è il paradiso, se non c'è la gloria della risurrezione, è la ricompensa che si riceve anche nel corpo, perché guardate che quanto più abbiamo conformato il nostro corpo al mistero di Cristo crocifisso, e tanto più sarà glorioso, questo non dimentichiamolo mai, ricordiamo anche, questo è anche un ciclo di catechesi, cioè il nostro tasso di gloria è proporzionato ai meriti. Giovanni Battista diceva a quelli che si devono convertire, non cominciate a dire abbiamo Abramo per padre, per favore. Io invece dico, non cominciamo a dire che c'è la misericordia, quindi c'è no, Dio può far sorgere figli di Abramo anche da queste pietre, disse San Giovanni Battista, d'accordo? Quindi non cominciate a fare queste cose qui, la misericordia di Dio la conosciamo tutti quanti, ma la misericordia di Dio non esclude la sua giustizia, e come i castighi temporali ed eterni sono proporzionati al numero e alla gravità dei peccati commessi, così la gloria che ci avremo in cielo è proporzionata ai meriti acquisiti. Cioè il corpo di Cristo c'è tanta di quella gloria sfolgorante che è il rovescio della medaglia di come era diventato il Venerdì Santo, uno dinanzi a quale ci si copre la faccia, uno che non aveva più un centimetro quadrato di pelle dove farsi aprire nuove ferite, uno che si è preso un autotreno di sputi, uno che si è preso un autotreno di bastonate, di pugni, di frustate, di sassate addosso, di cadute, di spaccarsi gli zigomi e la faccia sulle pietre, sui ponticelli del fiume Cedron, eccetera, insomma. Spine lunghe 7 cm l'uno che gli hanno strapassato la calotta cranica addirittura, insomma, quindi gli sono giunte negli occhi. Ha capito? Gesù sfolgorante di gloria è una gloria del risorto proporzionata al suo tasso di discesa e di umiliazione e di sofferenza nel corpo. Questo lo spiega bene San Paolo. Dice è risorto ma è Dio? No. No. Attenzione. Cioè la gloria che rifulge dal suo corpo glorioso non è semplicemente quella che gli trasmette la sua divinità. È questa che ci vuole. No. Ma è quella proporzionata ai meriti infiniti che come uomo ha guadagnato lui stesso. Ecco perché il Vangelo che abbiamo ascoltato che è stata ammessa oggi dice che gli è stato dato a lui il potere di giudicare perché è figlio dell'uomo. Lui lo sa che significa dover meritare. Insomma, guardate che Gesù Cristo ci ha meritato la redenzione. Meritato sotto stretta giustizia. Strettissima giustizia. perché ha pagato fino all'ultimo conto di ogni essere umano al Padre per tutti noi. Fino all'ultimo spicciolo. Ecco. Poiché se a causa di un uomo viene la morte, a causa di un uomo verrà anche la risurrezione dai morti. Quindi in Adamo è venuta la morte di tutti, la morte corporale che è una cosa di quanto più innaturale si possa pensare. Tanto è vero, tanto è vero, e qui ci soccorre ancora Tenera Amata, che Tenera Amata dice che tutte quante le fasi che hanno preceduto lo stato di cadavere, l'anima rimane unita al corpo, perché non se ne può distaccare completamente, perché è una cosa completamente innaturale. Innaturale. Perché l'uomo non è come un angelo. L'anima è stata fatta per il corpo, quindi che ci sia questo trauma, che a un certo punto puffete. Nel cadavere l'anima non c'è più. Rimane un corpo senza anima, che va in putrefazione. Orrore questo qui, eh. Orrore. Dice, sì, gli spazi tempi precedenti no, ma gli spazi tempi susseguenti sì. Il corpo diventa una gramigna di vermi. Eh, che capite? La carne si corrompe. Andatela a chiedere quando hanno aperto la tomba di Lazzaro. Non è mica un'apparenza quella lì, eh. È realtà. Tutti quanti lo sappiamo bene che è realtà la morte. Siamo stati dinanzi ai cadaveri. Io sono stato dinanzi ai cadaveri di mio padre e di mia madre. Eh. Non è apparenza, eh. Mio padre e mia madre, io qui non... Qui, nello scorrere del tempo della quarta dimensione, non ci stanno più. Stanno al cimitero i loro corpi. Eh. Da diversi anni. E ci resteranno fino alla resurrezione della carne lì dentro, eh. Anche se le ossa poi si saranno completamente mineralizzate. È la stessa cosa. Quindi. Quindi questa è un pochino la focalizzazione biblica del discorso sulla risurrezione della carne. Fondata sulla risurrezione di Cristo. A causa di Adamo è venuta la morte e a causa di un uomo la morte è vinta. E verrà quindi anche la risurrezione dei morti. Ciò che è avvenuto in Cristo, vedete, è anche perché Cristo è morto veramente. È morto veramente perché è stato il nostro Redentore. Ma è stato veramente nel sepolcro perché ci stiamo anche noi. Che cosa non ha permesso che il nostro Signore che capenisse però? Anche se è passato per la morte. La corruzione. non abbandonerai la mia vita nel sepolcro né lascerai che il tuo santo veda la corruzione. Perché? Perché il suo corpo è morto veramente perché lui è morto di morte violenta. Capite? Altrimenti non sarebbe potuto morire. Ma attenzione, come spiega San Paolo, lui ha preso un corpo simile a quello del peccato. Cioè che significa? Non ha preso il corpo che aveva Adamo. Perché il corpo che aveva Adamo, prima della colpa, era immortale per grazia. Era impassibile per grazia. I doni prete erano naturali. Queste caratteristiche Adamo le ha perse peccando. Allora Gesù, pur essendo innocente, pur avendo diritto, diciamo così, nella sua vanità santissima, di prendere il corpo perfettissimo e dotato di Adamo, ha preso un corpo perfettissimo. Nel senso che il suo corpo aveva una complessione perfettissima e questo era anche un guaio per lui. Perché per esempio la sensibilità al dolore, questo lo spiega bene San Tommaso, dei corpi di Gesù e di Maria, era enormemente superiore rispetto a noi. Proprio perché era un corpo purissimo, non contaminato dal peccato. E quindi anche la sensibilità e i sensi avevano un tasso di perfezione molto superiore al nostro. Quindi prendendo un corpo simile a quello del peccato, che significa simile? Cioè che è passibile come il nostro, risentere di tante condizioni di limitatezza come il nostro, non perché se lo meriti come noi, ma perché per solidarietà con il nostro Stato ha condiviso in tutto eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Quindi questo ci faccia capire adesso che in questi giorni stiamo entrando nel tempo di passione, cioè che cosa si è inventato nostro Signore. è una bellissima, delle bellissime considerazioni che ho sentito nei giorni scorsi, non mi ricordo da chi, ma che le condivido con voi, che il nostro Signore proprio non pago ancora, che è andato a inventare? L'Eucaristia. L'Eucaristia. E che succede nell'Eucaristia? Guardiamoci intorno che succede specialmente di questi tempi nell'Eucaristia. Le profanazioni, le cose, i calpestamenti, non contento. Qualcuno, se posso permettermi di dire questo qui, ma lo dico per amore, gli dicesse al nostro Signore, che tanto a me non mi ascolta, dice Gesù abbiamo capito quanto ci ami, basta, non te ne fa fare più un altro po', non lui se ne fa fare ancora, capite? Ho sentito nei giorni scorsi, non mi ricordo dove e da chi, ma è rimasto in prevedere, vedete come sta la mia testa. Un delle bellissime considerazioni, dice questo, ha istituto l'Eucaristia perché non gli bastava la passione, cioè l'hanno massacrato durante la passione, dopo una vita crocifissa, che tutta la vita di Gesù è stata crocifissa, si è rifatto gli atti di tutti gli esseri umani nella divina volontà, non si sa che si è inventato, adesso basta, no? No? Eh no? Come fanno i miei figli a capire quanto gli voglio bene? Devo mettermi nell'Eucaristia, per cui per bene che mi vada, e purtroppo gli va molto peggio, me ne resto rinchiuso dentro un tabernacolo, umiliato, dentro addirittura una cosa immateriale, che sono le specie del corpo di Cristo consagrato, ovviamente le specie che nascondono la sua presenza reale, con il pericolo che ci sia, che io li rimanga un illusto sconosciuto, che manco mi fanno la genufressione da davanti. Immaginatevi oggi che cosa succede dentro le chiese, che i tabernacoli non si rifinano proprio più a nessuno, a volte vengono messi dentro gli sgabuzzini, d'accordo? Genufressione non esistono più, rispetto per Gesù sacramentato non esiste più, ma magari fosse solo questo ci sarebbe già andata bene. Tutte le comunioni sacrile che sono state fatte nel corso della storia, tutte le messe sacrile che celebrati da prete in peccato mortale, basta leggere gli ultimi capitoli del dialogo della Divina Providenza e della Santa Caterina da Siena, non è un problema attuale, questo è un problema antico questo qui, magari tutti i sacerdoti fossero santi e puri, magari. Per non parlare poi delle ultime esploi di tutto quello che sta succedendo all'Eucharistia anche in campo cattolico negli ultimi anni. Noi dobbiamo cercare di fare il possibile per ricompensare e attestare, ma vi ripeto, lo dico con tanto amore, se qualcuno ci avesse tanto ascendente verso il nostro Signore, ma mi sa che non c'era nessuno, perché gli dice, Signore abbiamo capito, non ti far fare più niente, non permettere che ti facciano ancora qualcosa. Capite? Non ci si riesce, perché il suo amore non è pago. È impressionante, amici cari, rendiamoci conto, questo così concludiamo questa, fermiamoci alla parte biblica per oggi, concludiamo queste considerazioni che ci aiutino anche a vivere bene, cioè questi tempi noi dovremmo stare in ginocchio, in perpetuo, cioè dovremmo consumare i nostri occhi di lacrime e di commozione, perché tutto quello che si è inventato nostro Signore veramente quando sentiremo il venerdì santo, popolo mio che male ti ho fatto, ma che altro avrei dovuto fare? Forza, ma sapete perché fa così nostro Signore? Perché quando ci troveremo davanti a Lui come singoli e al giudizio universale, dirà dimmi un po', dimmi un'altra cosa che potevo fare, un'altra pazzia che mi potevo invertare per dimostrarti quanto ti amo, dimmi, 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 dimmi un'umiliazione che non ho subito, dimmi un oltraggio che non ho subito. Voi sapete cosa fanno alle ostie i satanisti durante le messe nere? È meglio non saperlo. Ma delle cose raccapriccianti. Voi pensate che Gesù quando ha istituito l'Eucaristia non sapeva che sarebbero successe queste cose, non lo sa? O forse qualcuno pensa che dopo, no, che se l'oste se la trafuga un satanista, Gesù se ne va. No, non se ne va. Non se ne va. Quindi questo dovrebbe veramente farci veramente morire di gratitudine, no? Di amore. E dobbiamo pensarci a queste cose. Guai a chi non ci pensa. Guai. Guai a chi non ci pensa. Non pensare a queste cose. Peccato mortale. Sicuro al cento per cento. Guai. Perché è chiaro che lui non ci obbliga a pensarci, però ce la lasciate queste cose. Sono davanti ai nostri occhi tutti i giorni. Guardate che non pensare è un delitto, eh. Ben se ne ricorda e si accascia dentro di me l'anima mia. La lettera di Santa Chiara a Sant'Agnese di Praga, no? Fissa come uno specchio colui che tanto ha sofferto per te, citando le lamentazioni di Geremia. Ben se ne ricorda e si accascia dentro di me l'anima mia. Ecco. E con questo prepariamoci bene a quest'ultimo tempo intenso dove la contemplazione di queste cose deve animare la nostra mente e la nostra anima giorno e notte. Ci vediamo la prossima settimana. A Dio piacendo e intanto Dio vi benedica e la Santa Vergine a tutti vi protegga.